Regata etica nello sport, decima edizione. La commissione, nell'assegnare il premio di regata etica nello sport, decima edizione, a Sir Alex Ferguson, manager del Manchester United, ha voluto premiare in particolare l'ineccepibile condotta mantenuta dal tecnico scozzese nei 25 anni di permanenza sulla panchina dei Red Dev. Infatti, al di là dei risultati agonistici che hanno postellato la sua carriera, Sir Alex si è sempre distinto per valori quali la lealtà, la correttezza e il fair play, principi oggi sempre più rari dello sport attuale. Inoltre, ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti delle giovani promesse da lanciare con la maglia del Manchester, che ha sempre difeso nei momenti di difficoltà. L'allenatore del Manchester non ha mai esitato a prendere decisioni, talvolta impopolari, per il bene della squadra, cercando di mettere sempre in primo piano l'unità e la compartenza dello spogliatore. Aggiungo semplicemente questo, che come diceva il Presidente Caputo, non è un caso che siamo qui nella facoltà di lettere di Tor Vergata, ma posso dire che Sir Alex Ferguson è veramente un umanista. Bravo! La Commissione è assicurata il Tor Vergata H in Sports Award 10 edition to Sir Alex Ferguson, Manchester United, as intended to reward the scholarship for his national holiday, my team, the youth, 25 years permanent week, their regularity. Amici e spettatori di Caccio, io dissento dalla pronuncia inglese di chi sta leggendo. la sua carriera. Sir Alex ha sempre distinguiti himself per loyalti, sportmanship e sport playing values in sport nowadays. Moreover, he ha sempre apprezzato particolare interesse come club manager in New York, from Icinget Vegas. Definitely there in times of duty. The Manchester United coach has never hesitated in making a popular decision always aiming to strive for consistency, hesitated and delighted for the team. Thanks, Sir Alex Ferguson. Grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti!